Ciao ragazzi e bentornati! Due argomenti che faranno sicuramente discutere VAR da una parte e pirateria dall'altra VAR perché ieri su OpenVAR ad Azon è stata analizzata l'azione del gol dell'Inter e in particolare il contatto tra Darmian e Chiesa e poi la pirateria perché c'è uno studio del buon Giovanni Armanini che è molto interessante e che vi stupirà in un certo senso quindi mettetevi pronti ad ascoltare questo contenuto io vi invito ovviamente a dare il vostro sostegno in che modo? Like, iscrizione al canale, è importante e commentate, commentate, commentate Partiamo dalla situazione VAR Ieri OpenVAR è stato dato questo servizio legato a questo episodio qua che ha fatto parecchio discutere fallo o non fallo cioè io vi dico la mia opinione francamente cioè se l'Arbitro avesse fischiato in presa diretta quel fallo probabilmente non saremmo qui a parlare di un gol dell'Inter eccetera successivo a quell'azione stessa però ci poteva stare come fischio no e il punto è il VAR può intervenire per annullare quel gol con quell'intervento quando poi la palla è stata giocata all'indietro col portiere e poi l'azione è ripartita secondo Denis di Errori Arbitrali questa cosa qua non può essere controllata dal VAR il VAR effettivamente torna indietro dice non c'è contatto col viso e questo è reale è una cosa reale e per cui va avanti e il gol viene alla fine convalidato c'è un pezzettino di audio che può essere frainteso perché c'è un pezzo dove l'AVAR dice torna alla 16 e sembra come sono felice in realtà per cui stamattina c'è stato un po' di parapiglia su Twitter ci sono cascato anch'io poi riascoltandolo effettivamente torna più la questione della 16 16 che cos'è? la visuale probabilmente il numero di telecamera e questo è però inizialmente sembrava una voce quasi fuori contesto da tutto il resto perché c'era una voce che spiegava l'azione andava avanti chiedeva certe inquadrature e poi la VAR invece che fa un'altra cosa sembrava invece un audio estrappolato da un contesto in cui lui non doveva parlare per cui c'è un po' di casino anche là non sono chiarissimi anche gli audio fraintendibili anche da questo punto di vista se poi ci aggiungiamo un pizzico di malafede che ognuno ha il rischio poi di arrivare ad affrettate conclusioni ci sono cascato anch'io ma quanto pare torna alla 16 ok ci tenevo insomma a sottolinearlo per quanto invece riguarda l'azione per cui la palla torna indietro e il gol è giustamente regolarizzato secondo gli esperti di Moviola il punto è un altro quando ho detto ah la palla torna indietro io ho chiesto allo stesso Denis ma Denis ti ricordi il gol contro il Napoli annullato a Di Maria dove Di Maria parte in contropiede dopo un bel lancio ma prima di tutto ciò c'è un recupero palla di Milik sulla botca in scivolata sfila il pallone la palla torna indietro c'è il lancio lungo la verticalizzazione e Di Maria poi arriva in area di rigore si sposta la palla e tira l'arbitro viene chiamato al VAR in quel caso la chiamata al VAR è corretta lì mi ha detto non è questo lo stesso caso dell'Inter perché nel caso del gol di Lautaro ci sono molti più passaggi all'indietro e l'azione è un po' più prolungata nel possesso in orizzontale all'indietro in questo caso c'è solamente un passaggio indietro la verticalizzazione e poi il tiro per cui può essere sì visionata da quel punto di vista il punto è che quell'episodio in particolare vedete quanto è complesso anche il protocollo VAR in quell'episodio in particolare secondo Denis non c'è un chiaro ed evidente errore quindi secondo lui l'arbitro non andava chiamato al VAR perché lì non c'è chiaro ed evidente errore c'è un arbitro che guarda quel contatto che dice di andare avanti perché viene conquistata la palla e quindi il gol doveva essere convalidato senza la chiamata da parte del VAR e l'onfield review successiva questo è il gran casino che è successo ieri ragazzi nella puntata VAR e questo è anche per spiegarvi quanto sia complesso quanto due episodi più o meno simili portino a delle differenze nell'applicazione del VAR stesso delle chiamate fatto sta che noi anche in quella occasione abbiamo avuto un errore contro nel senso che quello era il gol di Di Maria però al di là di questo il VAR chiama dal momento in cui il VAR chiama il contatto effettivamente tra Millic e Lobotca c'è è un contatto a limite non è un chiaro ed evidente errore però è un contatto a limite che se valutato dall'arbitro in presa diretta insomma e ti giudica a fallo non puoi dire un cavolo ci sta ma dal momento in cui dice che è tutto buono il VAR non può andare a chiamare l'arbitro per quell'episodio là è là che sta l'errore però una volta che ti chiamano al VAR è normale che vai a fischiare quel contatto là dettagli detto ciò adesso parliamo della pirateria perché c'è lo spot della serie A che la pirateria uccide il calcio ma è effettivamente così c'è uno studio di alcune agenzie che si occupano insomma della pirateria a livello europeo Sina Media e Ampere dove fotografano molto bene la situazione in questo momento c'è la pirateria ha delle sue caratteristiche la prima è prevalentemente calcistica e la seconda invece è più orientata al cinema alle tv ai servizi di streaming eccetera questo perché? perché non c'è una voglia effettivamente di danneggiare o di fare dei reati c'è una è un modo alternativo è più economico per usufruire di questa passione in Italia il danno certificato dalla pirateria è di 688 milioni di dollari per quanto riguarda lo sport che è una bella fetta però se andiamo a guardare gli altri paesi perché pensiamo che in Italia siamo gli unici ad avere il pezzotto e non è così ve lo posso garantire Belgio Olanda Francia Germania Inghilterra cioè sono tanti paesi che utilizzano i servizi alternativi e illegali ma basti pensare la Germania per esempio l'Inghilterra si avvicina al doppio rispetto del danno della pirateria nei confronti del calcio in Inghilterra il fenomeno è di 1,1 miliardi di dollari e in Germania 1,3 miliardi di dollari per cui in Germania sono più pezzottari di noi cioè stiamo sempre qui a dire l'Italia ha fatto la legge ha trovato l'inganno siamo i soliti furbacchioni ma in realtà il danno economico del pezzotto o delle alternative di pirateria negli altri paesi è superiore all'Italia l'Italia è uno dei paesi che sì c'è il fenomeno c'è evidente però il danno non è superiore agli altri insomma agli altri paesi questo perché perché nella narrazione della lega calcio pare che l'Italia sia fortemente danneggiata da questo fenomeno che questo fenomeno sta lentamente usurpando vitalità allo sport calcio e non è così in realtà è una ve la posso dire una roba secondo me con tutti i problemi che ha il calcio italiano è la via più semplice per scaricare tutto ciò che non va ad una cosa illegale che fuori dal controllo di chi deve gestire e organizzare questo è poi vabbè il tema comunque della pirateria è abbastanza complesso ecco c'è anche da dire che un aspetto rafforzato dalla poca voglia anche di andare contro le norme clienti il 57% di chi è il pezzotto già paga per avere altri servizi simili a pagamento per cui capite bene che è una questione legata più alla passione e alla una questione economica c'è anche da dire che c'è uno studio che il 74% di chi usa il pezzotto dice sapete che c'è a un prezzo giusto pagherai il prezzo normale per cui trova quella gente là il prezzo del servizio abbastanza esagerato la maggior parte della gente sono under 35 di chi ha il pezzotto chi ha famiglia eccetera per cui è veramente una questione di prezzi fuori mercato bisognerebbe lavorare un po' sulla modulazione delle offerte in futuro per cercare di rendere quanto più equo è possibile e anche profittevole ovviamente per i broadcaster il calcio vi dico già che c'erano certe idee da parte dei vari broadcaster rendere il prezzo del calcio un prezzo popolare ma la lega calcio si è imposta per non andare oltre una certa soglia di prezzo per non far passare il servizio come un servizio di bassa lega cioè per la lega calcio il prodotto calcio da sono chi che sia sky eccetera deve essere una sorta di prodotto premium ecco per giocare nella percezione del cliente estetto ti sto dando un gran servizio ecco della serie stai pagando un gran servizio invece se abbassi il prezzo è un casino da questo punto di vista della percezione del prodotto stesso marketing essenzialmente quindi è fuori luogo però dire che la pirateria uccide il calcio perché alla fine se andiamo a guardare oltre manica in Inghilterra la Premier è vero che affronta un fenomeno di una portata superiore rispetto all'Italia però d'altro canto è un campionato che riesce sempre ad aumentare i profitti nonostante abbia un problema che è il doppio della nostra portata 1,1 miliardi di danni legati dal pezzotto noi 688 milioni scusate non miliardi 688 milioni di euro l'anno a causa del pezzotto per cui siamo meno nella metà loro hanno un danno che lo stesso danno vale il doppio capite bene che mi pare che la Premier League non stia morendo ma riesca in qualche modo a trovare soldi investitori attrae capitali in Italia c'è questo problema qua non riusciamo ad essere attrattivi ad avere più capitale e altre cose e questo è il vero problema per cui scaricare tutti i problemi e riconoscerlo in uno ovvero c'è questo problema noi abbiamo un problema con la pirateria e quella che uccide il calcio è una boiata pazzesca perché le altre al di là di questo problema che il doppio di dimensioni rispetto al nostro riescono comunque ad aumentare quello che è il valore interno del prodotto calcio noi ancora non riusciamo ci stiamo depreciando che è differente signori questo è tutto io vi lascio comunque il link all'articolo di Joe dati un'occhiata e niente ci vediamo sicuramente domani con nuovi contenuti un abbraccio a voi e sempre fino alla fine forza Juve grazie a tutti